Voglio rassicurare tutti i tifosi che non ci sono problemi, sia di natura economica e finanziaria che sia di natura progettuale. Quello che manca al momento è l'impianto antincendio e antifumo degli spogliatoi e i tornelli, ma i tornelli diventano importanti nel momento in cui la squadra dovesse passare di categoria. Ci stiamo lavorando, siamo pronti e io sull'augurio che faccio alla mia città e a noi tutti è quello che Barletta salti passi di categoria e vinca i playoff e quindi in questo caso noi ci attrezzeremo perché il Barletta possa svolgere in piena sicurezza questo campionato. Voglio rassicurare e confermare che non ci sono problemi di natura economica. Tranne il Palamarchisella che ha subito danni durante le recenti piogge e gli altri godono buona salute, il Simeone lo stiamo completando, forse ci aggiungeremo ulteriori 170 mila euro per potenziare l'impianto d'illuminazione. La parte inferiore del Palasfida, del Palaborgia, si sta completando nell'ambito dei finanziamenti dei POR. Anzi vi invito a fare delle riprese se volete per farvi vedere lo stato dell'arte. Per quanto riguarda invece il Palamarchisella stiamo mettendo da parte 200 mila euro per la impermeabilizzazione dei solai che non è stato possibile effettuare in questi giorni per l'eccessiva pioggia. Noi abbiamo fatto il bilancio di previsione, lo abbiamo fatto non prevedendo ulteriori somme per le attività sportive, ma questo non è il bilancio di previsione, è un punto di partenza perché poi è sempre possibile fare variazioni del bilancio e quindi portare le somme che servono per la realizzazione delle opere che vogliamo realizzare. Ovviamente sempre nei limiti della compatibilità economica e della forza economica del Comune, perché come dico sempre noi siamo un Comune virtuoso, abbiamo grande rispetto dei soldi pubblici, ma non per questo, per soddisfare cose che non saranno possibili soddisfare dobbiamo indebitarci. Ho sempre detto che il Comune è come una famiglia, le spese si fanno se si possono fare. Io non voglio i creditori dietro la porta del Comune a chiedere soldi che magari noi abbiamo speso in maniera improvvida. Grazie a tutti.